Oggi è il mio 59esimo compleanno, 59, siamo vicini ai 60, insomma fanno gli auguri, magari mi lasci qui nei commenti i tuoi auguri. E tutti partendo da casa mi chiamano vecchio, mi dicono vecchio vieni qui, vecchio vai di là, vecchio fai di su, ma io continuo a ripetere anche ai membri della mia adorata famiglia che io non sono vecchio, sono diversamente giovane e oggi dovrebbe essere comunque una giornata straordinaria, bella, favolosa per me, quindi il mio compleanno, ma poi soprattutto sono vicino ai 60, eppure c'ho la mano in bocca e divento improvvisamente serio, complice il fatto che non avrei mai, mai voluto ricevere email come quelle che sto ricevendo, o meglio non avrei mai voluto ricevere nuovamente, perché io ho già, c'è stato un periodo nella mia vita in cui ho già ricevuto email di questo tipo e mi riferisco ad un periodo molto particolare, tra l'altro non è pure troppo lontano da qui, tra il 2008 e il 2014 se te lo ricordi, quando c'è stata un'altra grande crisi economica forte che ha preso tutta l'Europa, ma soprattutto la nostra bella Italia. E io mi ricordo che all'epoca stavo facendo, era il 2012-2013 se non erro, stavo facendo delle trasmissioni televisive su Antena 3, che saluto i ragazzi di Antena 3 per avermi saluto e ringrazio per avermi ospitato ben 24 volte con la mia trasmissione televisiva chiamata Motivazione. E l'ultima trasmissione televisiva la dedicai proprio a tutte queste persone che mi avevano scritto, che mi avevano proprio raccontato dei momenti difficili della loro vita che, insomma, mi raccontavano anche altre cose che è meglio in questo preciso momento, è meglio in questo video non citare neppure. Hai capito che insomma c'è stato un momento difficile in cui nelle cronache italiane, telegiornali, radiogiornali, la carta stampata, insomma si parlava di tutti questi piccoli imprenditori che non ce lo facevano più e si arrendevano e purtroppo si arrendevano in maniera completamente definitiva. e decidi di prendere quell'ultima trasmissione e rivoluzionai tutto il, come dire, l'impostazione della trasmissione e la dedicai completamente a, la feci diventare una trasmissione di speranza, addirittura il nome della trasmissione fu proprio, se non erro, presi l'idea del film La vita è bella, la vita è meravigliosa, no, La vita è bella, no, La vita è meravigliosa, La vita è bella è quella di Benigni, La vita è meravigliosa, quel film americano molto particolare e che sicuramente avrai visto anche tu e che quindi dedicai l'intera trasmissione a far comprendere alle persone che la vita è veramente meravigliosa e meritava e merita tutt'ora di essere vissuta e non mi sarei aspettato, te lo dico con molta franchezza, di dover tornare nuovamente a parlare di questi argomenti e a lanciare messaggi, messaggi di speranza come quello che sto per fare, perché credevo, sbagliando evidentemente, che nella nostra bella Italia, nell'Italia del 2020, di internet, della multimedialità, di tutto quello che possiamo avere, non ci manca assolutamente niente, si possesse tornare, si dovesse tornare a parlare meglio ancora di queste cose e nell'ultimo mese, a cavallo tra la fine di dicembre e la prima decade di gennaio, ho ricevuto ben 29 email, due anche questa mattina, quindi siamo a quota 31, email di un tenore bruttissimo, amiche imprenditrici, amiche artigiane, commercianti, qualche piccolo imprenditore, qualche professionista come me, mi è rimasto in mente l'email di un ragazzo giovanissimo che ha aperto la palestra da poco, se non ero tra la fine di gennaio a cavallo tra gennaio e febbraio dell'anno scorso, e che quindi è proprio caduto nella voragine totale, l'email di questa mattina di una sarta disperata che non so più come fare a pagare le bollette, è un momento difficile, è un momento difficile per tutti, io vi capisco, ti capisco, pensa che neppure io, come dire, io non faccio un'ora di formazione dal febbraio del 2020, mi ricordo se non ero che l'ultimo seminario che ho fatto l'ho tenuto proprio a Ragusa, la bellissima Ragusa insieme agli amici dell'Anama, dell'Accademia Anama di Ragusa, ed era la fine di febbraio se non erro, e da quel momento in poi non ho più fatto una sola ora di formazione, beh no, ho detto una bugia, ho rifatto una giornata formativa in quel di San Benito del Tronto a settembre, poi hanno richiuso nuovamente l'Italia, sembrava che dovessimo ripartire, poi zac, nuovamente richiuso l'Italia. Adesso sto aspettando di ripartire, sto aspettando anche di ricominciare, ma capisco le persone che non ce la fanno più, che arrivano a un punto di disolazione totale, di amarezza, ma quelle cose che queste persone stanno pensando, e che forse tu che mi stai guardando ti stanno frunando dalla testa, devi prendere e mettere da parte, perché non ci si arrende mai, mai, mai e poi mai. Ho letto l'altro giorno di una storia bellissima, di un commercialista giovanissimo di Torino, comunque nella cintura torinese, 35 anni se non erro, 35-36 anni, quindi giovane, che il suo studio di consulenza è andato in crisi, e lui che cosa ha fatto? Non si è lamentato, ma si è rimboccato le maniche, non ha nemmeno chiesto, non oso nominarlo da quanto io sono avverso, il famoso, tra virgolette, reddito di cittadinanza, ma si è rimboccato le manichette, si è dato da fare, e si è messo a fare rider, sì, mi hai capito benissimo, dal commercialista rider. Ora, io non so se lui sia felice, ma di sicuro è un vincente, è un vincente perché è una persona straordinaria, è una persona da una forza unica, cioè una persona che dà un esempio straordinario alle persone, agli altri, a quelli come te, a quelli come me, ci sta dicendo, guardate che possiamo reinventarci. Mi hai sentito? Possiamo, tu puoi, io posso, tutti noi possiamo reinventarci. Se la nostra attività, quello che noi stiamo facendo, quello per cui noi abbiamo creato la nostra piccola impresa, la libera professione, l'artigianato, il commercio, non va, non è detto che in questo momento dobbiamo assolutamente essere duri e sbattere la testa contro il muro e dover per forza fare quella cosa. Possiamo reinventarci come il nostro amico commercialista. Si è reinventato rider? Sì, lo so, molti storgono il naso, molti pensano che sia una cosa, come dire, svilente per lui, perché lui da commercialista è diventato rider, è passato ad essere rider, senza neppure dei diritti, ma lui ha fatto una cosa straordinaria, ha fatto una cosa favolosa, ma non perché sia favolosa, perché sia bella, ma perché ha avuto una prova di forza, ha avuto una grande forza, un grande coraggio questa persona. Si è reinventata. Tu lo avresti fatto? E allora scusami, fai come il nostro amico. Non ti sto dicendo che devi fare come Forney, io mi sono reinventato nel fare webinar, ho scritto libri, ho continuato a scrivere, ne ho pubblicato anche uno a settembre, mi sono dato da fare, non te lo faccio vedere perché l'oggetto di questo video non è quello di mostrarti i miei libri, ma è quello di farti capire che ci si può rimboccare le maniche, ci si può dare da fare, possiamo cambiare, possiamo migliorare, possiamo ancora farcela, perché se è vero che né io né tu siamo in grado di poter, come dirti, gestire la pandemia, bloccarla, se non con dei comportamenti intelligenti, lavarci le mani, distanzamento sociale, mascherina, le cose che ormai dovrebbero essere diventate di uso comune, di intelligenza comune da parte delle persone, non è che possiamo bloccare la pandemia o possiamo bloccare la crisi economica, però possiamo reinventarci, possiamo migliorare la nostra vita, possiamo fare come il nostro amico di Torino, darci da fare, rimboccarci le maniche e se la nostra attività, il nostro studio professionale, la nostra libera professione, la nostra bottega artigianale, il nostro negozio o la nostra piccola impresa in questo preciso momento non va, possiamo fare una cosa molto particolare, mai arrendersi e reinventarci. E allora prendi esempio da lui, non da me, da lui, prendi esempio da questa persona che è grande, perché si è rimesso in gioco, si è riboccatto le maniche, non si è lamentato e sta cercando di portare un po' di pagnotta, di pane alla propria famiglia. Lo so, non è facile, ma lo fa lui. L'ho fatto anch'io in altri modi, lo puoi fare anche tu. E allora mai, mai arrendersi. Un abbraccio e mi raccomando, se anche tu vuoi parlare con me, scrivimi info-kiocho-jocanoforai.com.